Ciao a tutti, buongiorno. Oggi è martedì 12 marzo. Ho in mano un elastico. Vedete quanto è forte questa invenzione dell'elastico, no? Va, viene, va, viene e rimane sempre. Ma bisogna stare attenti anche perché se tu lo tiri troppo dopo, ah, ah, si è rotto, ah, si è rotto. Allora, a me sembra oggi di dirvi una cosa molto semplice. Perché la nostra relazione con gli altri, il nostro modo di stare con gli altri è come un elastico. Andiamo, torniamo, stiamo con loro, ritorniamo da soli. Abbiamo un rapporto così di continua elasticità fra noi. Però non bisogna tirarla troppo. Non bisogna mai arrivare a una tensione tale con gli altri da rompere i nostri rapporti. Oggi cerchiamo di non rompere l'elastico, cioè il rapporto con chi ci sta vicino. E' un augurio bellissimo e anche una cosa difficile. Proviamoci. Ciao a tutti.